Wabalaba dab dab e bentornati su Namamamazzo, bentornati nella rubrica film in uscita, non si parla di un film in sala, è un film che è uscito direttamente sulla piattaforma streaming Disney Plus e ci riguarda molto da vicino a noi italiani perché sto parlando di Luca, film della Walt Disney Pixar ambientato in Italia, niente poco di meno che in Liguria nell'immaginario paese di Porto Rosso. E' ovvio che l'America ci ha un po' preso per la gola perché come può non piacerci un film che fondamentalmente parla di noi, ma andiamo a vedere di preciso cosa mi è piaciuto, cosa non mi è piaciuto e le sensazioni che mi ha dato questo film. Prima di cominciare se ancora non l'avete fatto vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che ve frega, di condividere il video con tutte le persone che vivono a Porto Rosso o i cittadini simili e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo film e di questo video, perché no? Luca è riuscito a sposare in un unico film animato per Giunta le sensazioni che ha trovato in film come Papà ho trovato un amico, ma anche Splash o Sirene. Cioè ha cercato di unire l'ambientazione fantasy del tema sirenesco, sirenetto, dove ci sono le sirene che una volta uscite dall'acqua diventano umane a tutti gli effetti, al sapore di quei classici film in cui i preadolescenti passano la loro prima estate magica con dei nuovi amici. Luca è un film che anche a causa dell'ambientazione italiana aveva attirato la curiosità di molti, specie perché si sa che quando l'America e gli Stati Uniti toccano qualcosa che non è loro, qualcosa che è esterno al loro paese, rischiano spesso di storpiarlo un po', di cadere nello stereotipo grezzo. E devo dire che nonostante comunque in Luca degli stereotipi ci siano, ma sono voluti, dosati, poi li vediamo uno per uno, non vi preoccupate, Luca trasmette proprio l'amore e la passione per l'Italia, per la Liguria. Non per niente il regista stesso, che è Enrico Casarosa, che è italiano e genovese, è proprio Ligure, si vede che ci ha tenuto a essere molto preciso in tutti i dettagli che sono presenti all'interno di Luca. A giudicare dalle canzoni e dal progresso tecnologico, Luca pare essere ambientato nella Liguria degli anni 50-60, anche se è pur vero che comunque gli americani ci vedono tutt'oggi come un popolo arretrato tecnologicamente e purtroppo a volte hanno anche ragione. Il personaggio di Luca è un mostro marino, così si definiscono questi abitanti subacquei che vivono sotto il livello del mare della cittadina di Portorosso. Sotto l'acqua questi mostri marini sono assolutamente civilizzati, sono come un piccolo paesino dove tutti si conoscono esattamente come la controparte terrena di Portorosso e è bello vedere come tutti i cognomi delle famiglie di questi mostri marini sono nomi di pesci in italiano. Quindi se voi, senza vederlo per forza in inglese, se voi attivate il sottotitoli noterete che ogni nome in lingua originale è un nome italiano di un pesce. C'è il signor Branzino, c'è il signor Scorfano, Luca stesso di cognome fa Paguro. Il personaggio di Luca è il classico bravo bambino, lo dice lui stesso, io sono un bravo bambino. Il classico bambino ubbidiente che vuole molto bene i suoi genitori, che è molto non chiocciato dai genitori ma comunque è tenuto al sicuro dai genitori, in particolar modo da sua madre che è lo stereotipo della classica madre apprensiva. Se vogliamo anche lo stereotipo della classica madre italiana, perché no? Che non vuole che il proprio bimbo si faccia del male. Luca ha questa mamma iper apprensiva, un papà che decisamente non porta i pantaloni in famiglia, è un po' succube della preoccupazione della madre verso il figlio ed è un po' perso nel suo mondo. E poi abbiamo la nonna che è la classica nonna saggia che in realtà ha vissuto il mondo e con una strizzata d'occhio riesce sempre a aiutare il nipotino. In questo contesto la madre di Luca demonizza il mondo in superficie, chiama gli umani i mostri terreni in contrapposizione ai mostri marini, laddove la parola mostro in questo contesto non ha più un significato negativo ma significa semplicemente diverso. Luca vuole obbedire a sua madre ma sente il richiamo dell'avventura, della conoscenza, vuole sapere cosa c'è oltre il livello dell'acqua. E qui entra in scena Alberto. Alberto è il tramite tra il mondo sottomarino e il mondo umano, ma ciò nonostante anche Alberto stesso è un mostro marino, quindi il primo link tra il sott'acqua e il sopra acqua è questo Alberto, che è il classico stereotipo del ragazzo scapestrato, diciamo un po' abbandonato dai genitori, che cresce un po' da solo allo stato brado e per questo si sente anche molto solo. Sopperisce a questa solitudine nel momento in cui incontra Luca facendosi grande esperto del mondo in superficie. Grazie alla sua conoscenza, a quella che lui pensa essere la sua conoscenza del mondo in superficie, cerca di essere speciale per Luca, in modo che Luca non scappi. E questo è il modo in cui Alberto vuole tenere il suo nuovo e unico amico. Viceversa Luca è il classico ragazzo timido, che non farebbe mai delle ragazzate se non fosse appunto trascinato da un tipo come Alberto. Ciò nonostante Luca è più intelligente di Alberto, proprio per questo dico vuole esplorare, vuole conoscere il mondo. Si denota subito che Luca è più intelligente di Alberto dal fatto che in un secondo riesce a aggiustare il grammofono. Nonostante Alberto abbia tutti i vari pezzi di rottami umani nella sua casa, a Luca viene l'idea di costruire la Vespa. Questa sete di conoscenza di Luca si vedrà sempre di più durante il film. La location da 5 terre è spettacolare ed è bellissimo l'amore che ci hanno messo e ricrearlo fedelmente. Persino le scritte, se state attenti a tutte le insegne del paese di Portorosso, sono molto molto fedeli. Molto più fedeli per esempio di quelle di Aquaman quando atterrano in Sicilia. Se Alberto è il tramite tra il mondo marino e le basi per integrarsi, mimetizzarsi nel mondo degli umani, presto si capisce che comunque più di tanto non ne sa nemmeno lui. E qui entra in scena il personaggio di Giulia. Giulia che ha in comune con Luca e Alberto il fatto di essere in un certo senso un'emarginata. Lei passa a Portorosso solo le estati in compagnia del padre, mentre l'inverno lo trascorre a Genova dalla madre frequentando la scuola. Quindi non si sente appartenente a Portorosso. E in questo trova in Luca e Alberto degli amici fedeli. I tre formano la squadra degli sfigati, degli underdogs. Giulia vive con il padre d'estate che è il classico burbero dal cuore d'oro. Una montagna coperta da folti riccioli, folte sopracciglia e folti baffi. Con un gatto che gli somiglia in tutto e per tutto. Un gatto con un nome davvero fantastico, Machiavelli. E proprio per questo si nota quanto sia furbo questo gatto. È il primo che scopre il segreto di Luca e Alberto. In tutte le storie ci vuole un cattivo. In questo caso il cattivo è il, diciamo, bulletto del paese di Portorosso. Non un bulletto in senso classico, un bulletto con stile. Ercole. Ercole è solo tanto quanto Alberto. Lo capiamo quando si iscrive alla Portorossocapa. E notiamo subito come sia il ragazzo più grande lì dentro. E non ci sono altri ragazzi della sua età attorno. Lui è l'unico sedicenne in un paesino di adulti e di bambini. E questa solitudine la gestisce nel modo peggiore. Ovvero elevandosi al di sopra di tutti gli altri bambini. Lui non si integra con i bambini perché è più grande. Ma non vuole nemmeno imparare dagli adulti. Lui frequenta i bambini per usarli e per esaltare la sua mania di protagonismo. L'ego di Ercole è stato anche galvanizzato dal fatto che lui è il vincitore dell'Apporto Rossocap che è questa gara di triathlon all'italiana che rappresenta uno stereotipo fantasy quindi non non reale ma assolutamente da morire da ridere in cui i tre sport sono il nuoto la bicicletta e la mangiata di pasta. Proprio perché questa vittoria alimenta il suo bullismo Giulia vuole spodestare il suo regno di terrore. Ma proprio perché è una underdog e una sfigata ha sempre partecipato da sola a questo triathlon fallendo perché è davvero impossibile fare quel percorso in bicicletta dopo aver mangiato un chilo di pasta e dopo aver nuotato. Ma quest'anno fortunatamente insieme a lei ci sono anche Luca e Alberto che per ovvie ragioni non possono entrare in acqua perché altrimenti si trasformerebbero in mostri marini e rischierebbero di venire un pochino arpionati dagli abitanti di Porto Rosso che per passione hanno la pesca e la caccia ai mostri marini. Questo film tratta il tema del diverso come non lo si sentiva da un po' di tempo ovvero non necessariamente un diverso per qualche ragione estrema nonostante i protagonisti siano mostri marini ma semplicemente perché non ci si sente integrati. Può essere anche semplicemente perché non si è dello stesso paese vediamo che Giulia che è umana come tutti gli altri solo perché a Porto Rosso ci passa solo le stati si sente diversa dagli abitanti di Porto Rosso stessi. Si sente più vicina ai mostri marini a Luca e Alberto. La paura degli abitanti di Porto Rosso per i mostri marini il fatto che vogliano arpionarli ucciderli prima di fare domande è il classico stereotipo della paura del diverso della paura dell'ignoto che sfocia nella rabbia sfocia nella violenza ed è bello vedere come nel più classico dello stile Disney alla fine quando capiscono che le persone che temevano essere tanto diverse sono degli abitanti che hanno convissuto con loro per tutta l'estate integrandosi perfettamente allora lì va via la paura va via la rabbia va via l'odio e nasce l'integrazione e lo hanno raccontato egregiamente divinamente. E ripeto non è un discorso politically correct che può valere solo nel 2020 per persone che sono esteticamente diverse, fisicamente diverse, culturalmente diverse ma anche banalmente per gli sfigati nostrani che si possono immedesimare in Luca, si possono immedesimare anche nell'estate che hanno avuto quanti di noi magari da piccoli non hanno avuto un amico come Alberto, un amico non troppo intelligente, magari non troppo smart ma più avventuroso un amico che riesce a far star zitto Bruno più di quanto non riusciamo noi che magari abbiamo avuto il carattere più simile a Luca oppure quanti di noi magari sono stati questo Alberto che hanno trascinato i ragazzi timidi lanciandoli in avventure estive fantastiche purtroppo non mancano anche delle guerre civili interne, ovvero la gelosia che prova Alberto per Giulia gelosia nel senso che Alberto è geloso di Luca, dell'amicizia che ha con Luca, lui vuole essere l'unico amico per Luca e quando vede che è Giulia a istruire Luca su quello che c'è realmente là fuori invece di integrarsi in questo contesto si sente ingelosito, minacciato al punto di arrivare a spezzare temporaneamente questa amicizia anche questa è una classica storia che si può vedere in mille film di preadolescenti che vivono l'estate la gelosia di Alberto è data proprio da questo suo senso di solitudine ed è bello vedere come nel finale tutto abbia una sua chiusura del cerchio tutti, tutti i protagonisti buoni ovviamente, riescono a ottenere quello che volevano ovvero Alberto che si è sempre sentito solo, è sempre stato senza un padre passerà l'inverno con il padre di Giulia aiutandolo a pescare finalmente sarà integrato, finalmente avrà una famiglia, un tetto sulla testa qualcuno che gli può davvero insegnare cosa c'è là fuori qualcuno che può davvero insegnargli la vita mentre il sogno di Luca, cioè quello di continuare a esplorare di conoscere, di andare a scuola è finalmente realizzato anche dalla serenità dalla serena amicizia ritrovata con Alberto che gli ha permesso di andare a scuola che l'ha aiutato ad andare a scuola insieme a Giulia che finalmente non si sentirà più mezza e mezza mezza di Portorosso e mezza genovese finalmente avrà un amico in classe di Portorosso con cui potrà sentirsi meno sola quando sarà a scuola quindi in generale devo dire che questo film mi ha fatto sentire davvero bene ma passiamo anche a analizzare alcune cosette italiane belle e meno belle partiamo con tutte le canzoni italiane che ci accompagnano durante tutta la pellicola canzoni italiane appunto di epoca che ti dà uno stile quantomeno anni 50-60 anche se non sono tutte di quest'epoca ma sono azzeccate non azzeccatissime quindi magari per un orecchio italiano io alcune canzoni non le avrei messe in determinate scene ma che ci stanno quel determinato pezzo di strofa ci sta in quel contesto soprattutto per un americano che magari non conosce la canzone il film si apre con un bacio a mezzanotte con le parole non ti fidardi un bacio a mezzanotte non c'entra molto con la storia ma serve per far capire allo spettatore americano che ci stiamo addentrando in un certo contesto italiano quando Alberto e Luca costruiscono la loro vespa di legno c'è la canzone del gatto e la volpe che noi sappiamo essere riferita a due truffatori che truffano Pinocchio però ci sta diciamo che in quel contesto Alberto e Luca sono due amici inseparabili che stanno facendo delle mascalzonate quando Alberto e Luca sognano invece la vespa c'è la canzone andavo a cento all'ora che seppur ha un contesto amoroso cioè Gianni Morandi andava a cento all'ora perché voleva vedere la fidanzata e non perché gli piaceva andare in vespa quindi sarebbe stato magari più adatta la canzone di Cesare Cremonini 50 Special ma a livello di sonorità era fuori contesto era troppo moderna questa è forse la canzone più azzeccata che c'è sulla velocità di quell'epoca che vuole trasmettere quel senso di anni 50-60 quando finalmente Luca e Alberto vedono esposta in vetrina una vespa la canzone che appare è fatti mandare dalla mamma a prendere il latte che anche lì non c'entra nulla ma penso che abbiano voluto sfruttare semplicemente la musicalità della canzone più che il testo in sé che comunque gli americani non capirebbero vediamo anche l'amore italiano per le canzoni liriche c'è il pescatore che fischietta la donna immobile per esempio quando Luca e Alberto arrivano sulla terraferma parliamo di stereotipi che ci sono nel film Luca come già detto lo stereotipo del triathlon all'italiana in cui c'è nuoto bici e mangiata di pasta ovviamente non è uno stereotipo reale lo stereotipo è il fatto che noi mangiamo tanta pasta mangiamo un sacco di tipi di pasta mentre per gli americani esiste la pasta per noi esistono i spaghetti i fusilli le penne le farfalle le penne rigate i tortiglioni eccetera eccetera le lasagne e si gioca un po' con questo contesto ovviamente è talmente esagerato questo stereotipo che fa ridere proprio per questo non c'è nessuna intenzione di ferire la nostra sensibilità è assolutamente anzi il gioco di esagerare proprio quello per far ridere fondamentalmente è invece un pochino noioso lo stereotipo dell'esclamazione dei santi nel senso che è ovvio che non possono mettere esclamazione un po' più volgare in un film Disney per bambini e tantomeno non possono mettere Belin non credo di poterlo dire nemmeno io su YouTube onestamente perché per quanto per il resto d'Italia sia un'esclamazione come un'altra in Liguria è abbastanza fortina per quanto mi è dato sapere quindi non mi aspetto una precisione in questa traduzione però neanche sentire sempre santa mozzarella santo pecorino persino nel doppiaggio italiano onestamente è un po' noioso è un po' questo è stato un stereotipo un po' pesante un po' poco divertente ecco da sentire passiamo all'unica nota dolente nonostante siamo nel 2021 gli americani non hanno ancora capito come noi italiani usiamo questo il gesto con la mano è vero è tipicamente italiano ma non lo usiamo come pensano che lo usiamo in America può essere che gli italo-americani lo usino in quel modo e quindi loro hanno il concetto che gli italo-americani e gli italiani siano la stessa cosa in realtà gli italo-americani sono in America da credo ormai cent'anni quindi non ci sono per forza le stesse usanze vediamo Alberto che quando consiglia a Luca di far tacere la sua voce interiore che verrà chiamata Bruno in questo film quando gli dice devi dire a Bruno di fare silenzio devi dire silenzio Bruno usa questo gesto della mano che noi non usiamo non lo usiamo per enfatizzare un concetto quindi non avremmo mai detto silenzio Bruno in questo modo forse l'avremmo fatto con il pugno ma non certo con questo gesto anche Giulia mentre va in giro con la sua bici a fare le consegne e parla con i ragazzi con Luca e Alberto ogni tanto toglie la mano dal manubrio per fare questo gesto mentre parla ma lo fa totalmente a caso sì per sottolineare quello che dice ma non lo facciamo quantomeno io non lo faccio non credo nemmeno i Liguri lo facciano correggetemi se sbaglio avrei voluto magari un po' più di precisione da questo punto di vista e infine Ercole il personaggio italiano più come posso dirlo senza essere bannato più tamarro di questo contesto che ne abusa particolarmente di questo gesto lo fa subito quando si presenta a Luca e Alberto che fa così lo fa quando è arrabbiato con Luca e Alberto e lo fa talmente tante volte che prima o poi ci azzecca c'è un momento mi sembra quando è verso la fontana che sta per spingere Luca nella fontana che lo sta facendo parecchio e in tutto quel marasma una volta l'ha usato in modo corretto ma a parte quello gli americani non hanno ancora capito questo come funziona fondamentalmente noi questo gesto lo usiamo per dire cosa stai facendo e infine un'ultima nota neutra quindi non è una cosa che non mi è piaciuta non è una cosa che mi è piaciuta è una cosa che ho constatato sul doppiaggio sull'adattamento ma anche proprio sul sul doppiaggio stesso ovvero vista l'accuratezza sulla Liguria onestamente mi sarei aspettato una leggera inflessione Ligure quantomeno nelle voci dei protagonisti autoctoni di Portorosso quantomeno quando si arrabbiano quando Giulia si arrabbia o quando Ercole si arrabbia quindi quasi sempre potrebbe uscire una leggera inflessione Ligure e invece non l'hanno fatto anzi mi è perso quasi di sentire il tipico accento che gli americani fanno quando cercano di imitare noi italiani un'altra cosa che mi ha un po' stranito ma forse è dovuta anche al passaggio in sordina di questo film direttamente su una piattaforma streaming e quindi non veicolata tantissimo dalla promozione dal marketing da una campagna promozionale che lo avrebbe esaltato molto di più ovvero non è presente un doppiaggio VIP ora io non sono fan dei doppiaggi VIP assolutamente ma vi ricordo che tra i migliori doppiaggi VIP di film Disney che abbiamo avuto c'è quello delle follie dell'imperatore doppiato niente po' di meno che da Luca e Paolo Luca Bizzarri e Paolo che si so che sono due comici attori liguri e francamente mi è un po' dispiaciuto non aver avuto un doppiaggio VIP fatto bene ovviamente da persone liguri perché no da Luca e Paolo stessi magari anche solo per ruoli minori peccato perché avrebbe magari sponsorizzato un po' di più questo film anche tra i non addetti ai lavori anche tra la sciura rosa la sciura maria che non sa nulla di quello che capita nelle piattaforme streaming però magari segue i comici segue le notizie di gossip e sa che due comici italiani hanno doppiato l'ennesimo film Disney vabbè non è andata così hanno fatto un doppiaggio molto 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 neutro che mi è piaciuto però per chi è questo doppiaggio neutro se fosse stato in un paese totalmente immaginario dell'Italia lo avrei condiviso al 100% ma dato che siamo esplicitamente espressamente in Liguria ci sarebbe stato tantissimo un accento ligure quantomeno nel doppiaggio italiano ovvio non lingua originale lingua originale non pretendo il lingua originale so che al massimo a cui possono arrivare è un quel misto di accento tra campano siculo e italo americano che fanno gli americani quando scimmiottano gli italiani ci sta ma nel doppiaggio italiano mi sarebbe piaciuto vedere un pochino più di Liguria tutto qui in generale devo dire che comunque l'esperienza è stata davvero 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 positiva mi ha fatto venire molta voglia di estate mi ha fatto venire molta voglia di vivere una bella vacanza come l'hanno vissuta Luca e Alberto vacanze che alla mia età non si hanno più così belle si hanno solo in quel periodo in quegli anni in quell'età in quel periodo scolastico quindi ve lo consiglio tantissimo io me lo sono rivisto tranquillamente due volte in italiano per carpire meglio le cose che potevo essermi perso e non mi è pesato assolutamente ve lo consiglio di vedere poi magari adesso me lo riguarderò anche in inglese per vedere un po' come ci scimmiottano meglio gli americani io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto vi dico arrivederci al prossimo video vi saluto vi saluto vi saluto vi saluto vi saluto vi saluto